No, volevo semplicemente dire questo, che i giornalisti hanno il diritto di cronaca. Il diritto di cronaca è stato sancito da una sentenza del 1972 e in base a quello poi per sempre i giornalisti non rispondono della violazione di reato a cui si riferiva Giubilei. La violazione di segreto, la pubblicazione di documenti riservati, è stata un reato a lungo ma questo non ha impedito che i giornalisti facendo il loro mestiere rivelassero anche degli scandali molto importanti che hanno contrassegnato la storia della Repubblica e lo hanno fatto certo in collaborazione con i magistrati o con i cancellieri o con gli avvocati che gli passavano le carte. Da un certo punto in poi è stato riconosciuto che esiste una cosa che si chiama diritto di cronaca. Il diritto di cronaca ormai fa parte dei diritti affermati in questo paese. Quindi va oltre anche la famosa privacy, va oltre qualunque. Assolutamente, perché ovviamente devono essere notizie vere, devono essere documenti veri. Diciamo che sapere perché, faccio un nome a caso, l'interesse di Striano nei confronti di Fedez, faccio un nome a caso, è tutto da capire. Perché il signore della Guardia di Finanza andava... Ma io sto parlando infatti della pubblicazione di documenti riservati. No, no, chiaro, questo riguarda poi altro. Quello lì è il nostro diritto. Intanto vediamo Mattarella che ha finito al Quirinale.